Pietro Fuda non molla. Il sindaco di Siderno ostenta serenità a pochi giorni dall'insediamento della commissione d'accesso antimafia in municipio. Il primo cittadino, nel corso di una follata conferenza stampa, ha difeso con forza il suo operato. Le carte parlano da sole, ha ribadito, e questo mi dà più forza per la prosecuzione del mio mandato. Non dico di essere contento dalla nomina della commissione, ha osservato il sindaco Fuda, ma probabilmente il loro lavoro potrebbe servire a far chiarezza e darci ulteriori stimoli. Sono tranquillo e sono pronto a fornire ogni chiarimento che mi verrà richiesto. Ma come mai dunque tanta attenzione del Viminale verso Siderno? Il nostro eccessivo dinamismo attuonato Fuda evidentemente ha dato fastidio a qualcuno. La commissione svolgerà la propria attività d'indagine per tre mesi, prorogabili per altri tre, al termine dei quali redigerà una relazione da inviare al prefetto. Intanto il dibattito proseguirà oggi pomeriggio in un consiglio comunale che si preannuncia caldissimo. Noi non temiamo l'arrivo della commissione perché la commissione è stata mandata per accertare collegamenti raffiosi o condizionamenti nella deduzione degli atti. Noi chiediamo che la commissione vada al di là del mandato e che guardi pure la legittimità degli atti. Ilario Bali per la Cineus 24.